Allora, oggi facciamo un altro argomento e parleremo di aritmetica modulare. Cos'è l'aritmetica modulare? Se avete fatto qualche problema di allenamento, qualche problema qualche anno scorso, eccetera, vi sarà capitato di vedere, magari, che a volte vi viene richiesto di dare la risposta del vostro programma in, ad esempio, modulo un miliardo e sette. Vediamo se riesco a fare il numero di z è giusto. Dovrebbe essere un miliardo e sette, perché qua, qua. E qua, perfetto. Modulo un miliardo e sette. Perché? Perché ogni tanto viene chiesto di non di dare la risposta. Per esempio, mettiamo il problema del piastrellamento. Mi chiedo quanti sono i piastrellamenti, quindi il problema è il piastrellamento del bagno con i piastrellati da 1 e da 2, ok, solito. E mi chiedo in quanti modi posso piastrellare un bagno lungo 100, per dire. E se trovate questo problema, probabilmente vi chiederà la risposta, per esempio, in modulo un miliardo e sette. Perché? Noi finora abbiamo fatto l'assunzione che ogni volta che avevamo una certa operazione a più b, questa cosa ci costava tempo costante, ok? Ed è una buona semplificazione all'inizio, ma è una semplificazione, non è veramente così. Perché se noi abbiamo, se noi dobbiamo fare, per esempio, che ne so, 3 più 4, ok? Ok, questo è abbastanza scontato, che faccia 7 è abbastanza scontato che un computer riesca a calcolare questa cosa in un tempo costante. Tuttavia, se abbiamo magari un numero a mille cifre, ovviamente non le faccio adesso mille cifre, perché se no sto qua fino a domani, però mettiamo che queste qua sono mille cifre più un altro numero a mille cifre. Beh, qua diventa meno scontato che un computer possa farlo in tempo costante, tant'è che non è vero. Come funziona, quindi, questa cosa? Quando è che l'operazione è costante e quando invece non lo è? Quando ci dobbiamo chiedere quanto costa effettivamente questa operazione? Per rispondere a questa domanda ci serve sapere come un computer salva i numeri. Cioè, nel computer, come sono effettivamente salvati questi numeri che noi usiamo nei nostri programmi? Immagino che tutti quanti sappiate che l'unità di base dell'informazione all'interno dei computer è il bit. È un qualcosa che può essere vero o falso, che può valere 0 o 1, ok? Ha due valori. E in tutti quanti i computer moderni, moderni parlo tipo dal 2002 in poi, potrebbe essere che qualcuno addirittura di voi nel 2002 non era ancora nato. Tutti i computer moderni rappresentano un numero usando 64 bit, ok? Ma se usiamo 64 bit per tenerci il nostro numero, quanti numeri possiamo rappresentare? Quanti numeri diversi ci stanno nel nostro computer, nel nostro programma? Quanti numeri diversi possiamo metterci in un numero? Beh, se un bit ha due possibili valori e ne abbiamo 64, dobbiamo fare tutte le possibili combinazioni di questi 64 bit e si vede facilmente che il numero di possibili valori che ci possiamo mettere dentro è 2 a 64. Che è quello, questo qua per intenderci, per chi di voi già sa un pochino di C o C++, è la variabile di tipo long long, ok? Qui abbiamo detto che ci possiamo mettere dentro 2 a 64 valori diversi. Quali sono? Beh, tutti quanti i vari linguaggi di programmazione hanno diversi modi di interpretarli, questi 2 a 64 possibili valori. Di solito i due modi di rappresentazione più comuni sono quello che chiamiamo unsigned, unsigned, unsigned integer, ovvero intero senza segno e signed integer, ovvero intero con segno. Non sto adesso qua a fare manfrine su come effettivamente funzionano proprio bit per bit, non ci interessa. Quello che ci interessa sapere è che se io ho un intero a 64 bit, se io ho un intero a 64 bit, anzi facciamo per generalizzare, facciamo che non è 64 ma è a n bit, se io ho un intero a n bit, ok? L'unsigned integer può rappresentare interi nel range da 0 a 2 alla n escluso, ok? Quindi, ad esempio, se ho 8 bit, posso rappresentare quella variabile 8 bit i numeri da 0 a 255, perché è 2 alla ottava e 256, escluso però, quindi 255. Oppure, se invece voglio anche il segno, allora posso rappresentare numeri da meno 2 alla n meno 1, incluso, fino a 2 alla n meno 1, escluso. Questo è quello che ci interessa sapere. Normalmente, quando io devo scrivere una variabile intera in un linguaggio di programmazione tipo C, la storia della maggioranza delle persone scriveranno int. int è una variabile intera con segno a 32 bit, quindi sappiamo qual è il range che può sostenere. Invece, ad esempio, se vogliamo avere una precisione più alta, potremmo, per esempio, dichiarare una variabile come long long. e long long, invece, è una variabile con segno a 64 bit, quindi sempre questo range qua, però con 64 bit, se invece non ci interessa il segno, se è sempre in C, possiamo metterci davanti lo specificatore unsigned, che la fa diventare senza segno, quindi guadagniamo questo ultimo range non avendo quello negativo, cioè sacrifichiamo il negativo per avere un po' di precisione in più verso l'alto. Ok. Bene, questo è come funziona però C. Ma come funziona veramente il processore? Cioè, i processori, effettivamente, ste operazioni, come le fanno? Beh, dicevo, i processori moderni sono fatti per gestire in tempo costante operazioni con interi fino a 64 bit. Quindi, in realtà, in un processore moderno, che infatti si chiama processori a 64 bit, se voi fate delle operazioni con un long long, ok, ci mettono allo stesso tempo come se le faceste con un int, quindi usare 32 bit, usare 64 bit è indifferente, perché il processore è a 64 bit. Quindi vuol dire che fino a interi 64 bit, qualunque operazione la fa in tempo costante. Ed è qua che ci fermiamo per quanto ci interessa questo pezzo. Cioè, a noi interessa non tanto sapere cosa succede quando abbiamo più bit, magari poi ci interesserà in futuro, ma per ora no, ci interessa sapere che per dire che a più b è un'operazione costante, per considerarla un'operazione costante, dobbiamo assicurarci che non sforiamo i range di rappresentazione degli interi che stiamo usando. Quindi se questo qua è per esempio un long long, noi sappiamo che questa cosa ha tempo costante solamente se gli interi sono in questo range. Se non fossero in quel range e stessimo usando long long, quello che succederebbe è che darebbe un risultato sbagliato. Se invece volessimo avere un risultato corretto, dovremmo implementare altra roba e non costerebbe più tempo costante. Ok, quindi cosa vuol dire questo? Che se noi abbiamo un problema, tipo quello del piastrellamento, ci chiediamo quanto vale f di 100, il problema è che f di 100 è un valore assurdamente alto, è enorme f di 100, è molto più grande del di 2 alla 64, meno 1, che è il valore massimo che possiamo mettere in un intero 64 bit senza segno. Questa cosa vuol dire che per calcolare f di 100 o dovremmo implementare un qualche intero precisione arbitraria, cioè un intero che può andare oltre 64 bit, ma a quel punto nel calcolo della complessità dovremmo anche considerare il fatto che ora le somme, le sottrazioni e quant'altro non sono più operazioni costanti. Oppure, molto spesso, visto che di solito lo scope dei problemi non è implementare queste cose, chiediamo la risposta in resto qualche numero, di solito 10 alla nona più 7, un miliardo e 7. Perché questo migliora la situazione? Perché se noi abbiamo il nostro numero, ok, per esempio questo qua, com'è che l'ha definito? Era f di n uguale f di n-1 più f di n-2, ok, questo numero vi ho detto che in realtà cresce tantissimo, cresce esponenzialmente. Se voi provate a calcolare f di 100, se voi provaste a calcolarlo in un linguaggio che ha interia precisione arbitraria, tipo Python, per dire, di default, vedreste che è un numero spaventoso, è più grosso di quanto può gestire un numero 64 bit di C. Ma allora, se non interessa solamente, a chi ha fatto il problema interessa solamente che voi abbiate trovato la soluzione corretta, ma non interessa quale sia la soluzione, vi potrebbe chiedere di darla in modulo sta roba. Come cambia il programma? Beh, cambia solamente che ci mettiamo un bel modulo 10 alla 9 più 7 nel return, in questo caso. 10 alla 9 più 7, ok. Perché ora non abbiamo più non dobbiamo più preoccuparci del fatto che questo più potrebbe sforare i 64 bit e quindi non essere più costante. Perché noi ci stiamo assicurando che ogni valore di ritorno è sicuramente grosso al massimo 10 alla 9 più 7. C'è un miliardo a 7. Perché se calcoliamo il resto diviso 10 alla 9 più 7 ovviamente questo numero non può essere maggiore di 10 alla 9 più 7 perché se no ripartirebbe da 0 perché è un resto. quindi se noi applichiamo ogni volta questo modulo anche il numero finale otterremo il numero finale in modulo questa cosa. Questo è il motivo per cui viene usato. Questa cosa di fare il modulo si chiama aritmetica modulare e possiamo vederne un po' di proprietà perché io vi ho detto là ma sbattiamo un modulo 10 alla 9 più 7 e tutto è a posto ma non è scontatissimo che sia tutto a posto cioè perché la domanda di solito è il risultato finale modulo 10 alla 9 più 7 non fai tutti gli step intermedi così e poi il risultato vabbè ci prendiamo quello lui vuole il risultato finale modulo 10 alla 9 più 7 quindi applicare questo modulo di step intermedi funziona uguale cioè possiamo farlo vediamo allora in matematichese di solito se noi vogliamo esprimere un certo numero a in modulo b lo scriviamo così a mod b di solito quello che c'è a sinistra è una qualche espressione e a destra diciamo modulo qualcosa come abbiamo già detto questa cosa è semplicemente prendi quello che c'è a sinistra dividilo per quello che c'è a destra e il risultato è il resto modulo dire il resto della divisione intera ok vediamo un po' di proprietà una proprietà carina è che a più b modulo c è uguale a a modulo c più b modulo c quindi la prima un attimo non è vera non è vera questa cosa ci manca un'altra roba modulo c ok quindi cosa possiamo vedere e vincere da questa proprietà che se noi dobbiamo fare a più b ok noi possiamo prima applicare il modulo singolarmente ai numeri farne la somma e poi riapplicare il modulo otteniamo la stessa cosa quindi già con questa proprietà vediamo che in realtà la cosa che facevamo prima cioè solamente di applicare il modulo a ogni ritorno della funzione già funzionava ed era valida perché vale questa proprietà un'altra proprietà questa cosa vale per la somma e vale uguale anche per il prodotto adesso uso il percentuale perché è un pochino più stretto questa cosa è uguale a a modulo c per b modulo c tutto quanto modulo c quindi se noi vogliamo avere il prodotto modulo c possiamo applicare il modulo ai singoli numeri e poi applicare il modulo al prodotto di questi numeri già modulati bene quindi cosa vuol dire che anche per esempio un altro esempio di funzione che cresce esponenzialmente quindi che non possiamo avere valori grossi che vanno a finire in una variabile perché non ci stanno è ad esempio n fattoriale n fattoriale come l'ha definito l'ha definito come n per n-1 fattoriale e 0 fattoriale uguale a 1 questa era la definizione di fattoriale anche qua quindi questo prodotto scriverlo in codice per avere se vogliamo la risposta ad esempio sempre modulo 1.7 possiamo calcolare possiamo calcolare l'n-1 fattoriale di qua ok lui sarà già modulo 1.7 perché il caso base 1 1 ovviamente 1 modulo 1.7 fa 1 se noi mettiamo un bel modulo così nessuna computazione intermedia sfora la precisione che garantisce un inter 64 bit e otteniamo alla fine risposta finale modulo 1.7 la domanda è una domanda potrebbe essere perché proprio 1.7 perché di solito si usa 1.7 come modulo per la risposta ci sono due motivazioni una abbastanza semplice e una un pochino più complicata e le vediamo entrambe allora il primo motivo è questo se noi abbiamo due numeri a n bit ok quindi facciamo che a è un numero a n bit e b è un numero a n bit anzi facciamo e facciamo che n non è n bit ma è a m bit così diciamo la cosa bene ok se noi facciamo anzi perché sennò diventa complicato facciamo anche due n bit se noi facciamo a più b se noi calcoliamo a più b quanto potrebbe essere grosso a più b quanti bit ci potrebbero servire per rappresentare a più b domanda per voi se a e b sono n bit quanti bit ci servono per avere con precisione cioè avere la somma esatta di a più b se non si è capito la domanda ditemelo vabbè chiamo io c'entra c'entra il logaritmo o sbaglio no questo chi è pardon sono pietro pietro ok no allora se noi abbiamo a a facciamo mettiamo che è 101 ok 101 ovviamente in base 2 quindi è 5 e mettiamo che b è che ne so 110 quindi 6 ok perché sono numeri in binario perché sono bit quindi ok e mettiamo che quindi il numero di bit di entrambi è 3 la domanda è quanti bit ci serviranno per rappresentare a più b 4 4 perché vabbè facciamo un attimo i conti fa 11 01 che fa farà 11 ma giusto per controllare si fa 11 perfetto ok ne possiamo dedurre qualcosa di generale ma io pensavo che se a n bit quindi il massimo valore suo è cos'è 2 alla n meno 1 2 alla n meno 1 sì e stessa cosa per b sì e quindi a più b al massimo è esatto quella roba lì e vabbè col meno 1 non so però comunque esatto 2 alla n più 1 meno 2 e quanti bit ci servono per rappresentare questo numero n più 1 n più 1 perfetto questo se le voci non mi tradiscono era Stefano C vero? esatto ok perfetto ok Stefano C ci ha dato esattamente la risposta che stanno cercando cioè prendiamo il massimo valore rappresentabile con n bit lo sommiamo al massimo valore rappresentabile con n bit e vediamo in quanti bit dobbiamo usare per rappresentare il risultato n più 1 bit ok quindi tutto questo per dire che se stiamo facendo una somma ok e e ovviamente la somma potrebbe sforare il modulo cioè la somma intermedia che facciamo potrebbe sforare il modulo stiamo facendo le robe in modulo 7 per dire il massimo valore modulo 7 è 6 perché 7 modulo 7 farbbe 0 6 più 6 il risultato intermedio 12 può sforare il modulo quindi prima che facciamo il modulo potrebbe sforarlo di quanto può sforare beh abbiamo visto che se abbiamo due numeri a n bit possono andare al massimo n più 1 quindi se noi stiamo usando una variabile a 32 bit per dire vogliamo assicurarci che il modulo sia minore di 2 alla 31 se stessi una variabile senza segno a 32 bit vorremmo assicurarci che il modulo sia minore di 2 alla 31 perché se no nell'operazione intermedia che stiamo facendo potremmo sforare la capienza massima degli interi questo per la somma quindi per la somma vabbè un bit in più ok cioè nel senso non nulla di sconvolgente vediamo adesso invece per il prodotto cioè se noi abbiamo a a n bit e b a n bit a per b quanti bit potrebbe usare al massimo 2 n 2 n probabile controllo controlliamo giusto per essere sicuri quindi facciamo gli stessi conti di prima abbiamo 2 alla n meno 1 al quadrato questo giro non 2 per ma al quadrato sviluppiamo il quadrato quanto fa farà 2 alla 2 alla n cioè 2 alla 2 n meno 2 alla n no non è vero non è 4 alla 2 n allora potrei potrei star sbagliando allora vediamo se mi ricordo ancora come si fanno le cose però dovrebbe essere cioè allora calmissimi se ho a meno b al quadrato questa cosa fa a al quadrato meno 2 a b più b al quadrato ok e su questo non ci piove 2 n al quadrato fa 2 alla 2 n ok meno 2 a b fa meno questo per questo questo ehm 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 sì 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 fa meno 2 a b quindi non è questo ma è 2 meno 2 alla n più 1 perché c'è un 2 in più più 1 ok questo è il conto giusto quindi il numero è poco meno piccolo di 2 alla 2 n quindi sì ci vogliono 2 n bit ci vogliono 2 n bit ok ma quindi ma quindi è un bel casino se noi abbiamo ehm un numero a 32 bit ok dove stiamo facendo i conti beh vuol dire che al massimo il modulo potrà essere di 16 bit cioè potrà essere una roba minore di 2 alla 16 e 2 alla 16 non è tanto 2 alla 16 è 65.536 quindi per non sforare un intero senza segno a 32 bit se vogliamo fare dei prodotti dobbiamo usare dei un modulo cioè possiamo avere un modulo che deve essere minore di questo numero qua 1.7 è tale è 1.7 perché è proprio quello che non sfora i 64 bit invece 1.7 è poco meno di 2 alla 31 quindi 10 alla 9 più 7 è minore troppo spazio occupato facciamo così è minore di 2 alla 31 è poco meno di 2 alla 31 quindi vuol dire che se noi teniamo i valori in variabili long long ok long long quindi a 64 bit però nel 63 per la parte positiva però va bene vuol dire che i nostri prodotti intermedi sicuramente non sforeranno 2 alla 62 abbiamo detto che un long long ha 63 bit per la parte positiva e quindi possiamo usare un long long per fare prodotti in modulo 1.7 questo è il motivo per cui si usa 1.7 è il primo motivo per cui si usa proprio 1.7 ok perché se usiamo variabili 64 bit che ci sono in tutti i linguaggi di programmazione fondamentalmente possiamo avere le computazioni parziali con i moduli avendo dei prodotti e sicuramente questi prodotti intermedi non sforano mai 64 bit bene questo è il primo motivo il secondo motivo per vedere il secondo motivo è un pochino più difficile è un pochino più matematico ma ci addentriamo comunque allora se noi abbiamo abbiamo detto che a più b ok se vogliamo calcolarlo è banale facciamo l'operazione cioè dobbiamo calcolare a più b modulo m ok è banale facciamo a più b ok sforiamo il modulo chi se ne frega e poi riapplichiamo il modulo questo è come calcoliamo a più b modulo m banale a per b a per b modulo m anche questo banale facciamo il prodotto in caso sforiamo ok il modulo dobbiamo sempre dobbiamo fare attenzione al numero di bit della nostra variabile rispetto al modulo comunque una volta che abbiamo fatto queste attenzioni rifacciamo il modulo del prodotto e abbiamo ottenuto la risposta ci sono ancora due operazioni però che dobbiamo vedere a meno b modulo m a meno b modulo m c'è un problema perché l'operatore modulo del c fa la cosa che ci aspettiamo cioè dà il resto della divisione intera in realtà lo dà sempre però fa la cosa utile per questo solamente se la parte destra è positiva perdono non se la parte destra è positiva anche se la parte destra è positiva ma se la parte sinistra è positiva ma se noi facciamo a modulo b questa cosa non è sempre positiva o no? quindi detto ciò se a è maggiore di b questa cosa non ha problemi se invece a è minore di b come facciamo a fare questo calcolo? domanda per voi quello che vogliamo ottenere ricordatevi è il resto della divisione intera per m di questo numero ah però ok effettivamente vi manca una piccola informazione cosa vuol dire meno uno modulo tre per dire ok questa è un'auto obiezione che mi è venuta in mente adesso giustamente cosa vuol dire meno uno modulo tre perché a questo punto non ha più senso definirla in quel modo là per questo possiamo utilizzare la buona vecchia analogia dell'orologio mettiamo di avere un orologio che ha tre lancette non tre lancette perdona che segna può segnare tre ore può segnare l'ora zero l'ora uno e l'ora due e sono tre zero uno due quindi zero modulo tre lo interpretiamo come andiamo avanti di zero e poi vediamo dove ci siamo cacciati su questo che ore sono quindi zero rimane zero uno rimane uno due rimane due tre diventa zero quattro è uno cinque diventa due eccetera eccetera però usando questa analogia possiamo anche andare all'indietro quindi meno uno è due perché torniamo indietro di uno ok in questo orologio andiamo nel senso opposto andiamo in questo senso e otteniamo due questo è il senso in cui un numero negativo deve essere interpretato in aritmetica modulare ora sapendo qual è l'interpretazione e sapendo che l'operatore modulo del del c non fa la cosa giusta perché meno uno modulo tre in c credo faccia meno uno perché fa la cosa dell'orologio solamente se il numero sinistra è positivo se il numero sinistra e il numero destra sono positivi se no fa un'altra cosa quindi avendo queste informazioni come facciamo a calcolare a meno b modulo m domanda per voi ho visto qualcuno abbandonato faccio prima a meno b e poi la somma faccio il modulo e non mi è chiarissimo cosa stai intendo cioè nel senso se fai a meno b potrebbe venirti negativo potrebbe venirti meno tre per dire e se fai meno tre modulo cinque ok quello che ci aspetteremmo che viene è due credo cioè tre meno tre modulo cinque fa due ok perché perché se rifacciamo il corso dell'orologio se mettiamo le ore uno due tre quattro e cinque questa è la zero questa è la uno questa è la due questa è la tre questa è la quattro se partiamo da qua andiamo indietro di tre facciamo quattro tre due quindi dovrebbe fare due ok però se tu invece in c fai meno tre modulo cinque viene meno tre perché come ho detto in c l'operatore modulo si comporta come il modulo matematico solo se sia la parte sinistra che la parte destra sono positive quindi non possiamo in questo caso usare il modulo così direttamente e allora possiamo prendere la parte negativa sommargli cinque finché non diventa positiva perfetto perfetto ok questo era ancora Stefano B vero? eh Stefano B non esiste Stefano C ok esattamente allora assumiamo per semplicità che in tutte le operazioni che abbiamo fatto non abbiamo mai non siamo andati mai sotto meno m ok se noi ogni volta aggiustiamo i numeri non potrà mai capitare che andiamo sotto meno m va bene quindi vuol dire che questo numero ehm cioè perdono che tutti quanti i numeri sono tra 0 e m e meno 1 quindi se tutti i numeri sono tra 0 e m e meno 1 la cosa peggiore che può capitare è che a è 0 e b è m meno 1 ma allora semplicemente basta che sommiamo m tanto se sommiamo m ed erano positivi quell'm non conta perché quando poi facciamo il resto della divisione sparisce se invece era negativo lo stiamo riportando positivo quindi in realtà per fare questo in codice diventa a più m meno b e qua la penna ha deciso di non andare più modulo m assumendo che ovviamente sia a che b stiamo assumendo che sono compresi tra oggi proprio la mia scrittura non vuole andare bene che sono compresi tra 0 e m che sono sempre nel range giusto va bene se non lo sono li riportiamo a ogni step quindi se sono nel range giusto questa cosa qua è sempre non negativa potrebbe essere 0 ma va bene perché a è in questo range b al massimo è m meno 1 quindi m meno quella cosa farà un numero tra 1 ed m se noi sommiamo m vedete con l'analogia dell'orologio che rimaniamo nello stesso posto quindi possiamo farlo quante volte vogliamo e quindi questa cosa è equivalente a questa con la differenza che questa qua è calcolabile tramite c quindi se vogliamo scriverla in termini di c questa cosa diventa proprio a più m meno b modulo 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 m ok e fino a qua comunque anche qua facciamo una somma quindi vale la stessa cosa del fatto che posso forare di un bit l'ultima operazione che invece è la più tosta è quanto fa a diviso b in modulo m e questa è una rogna questa è veramente una rogna mentre le altre alla fine a più b è banale a per b è banale a meno b c'è qualche accorgimento da fare ma alla fine è abbastanza balordo anche lui a diviso b e non sembra bello perché allora ovviamente se avessimo dei numeri che possono andare all'infinito cioè se avessimo precisione arbitraria nei nostri numeri cosa faremo calcoleremmo veramente a diviso b e poi assumendo che a e b si dividono cioè che b è un divisore di a e poi faremo modulo m ok questo è quello che idealmente vogliamo fare purtroppo non vale che a modulo m diviso b modulo m fa a diviso b modulo m questa cosa non è vera e in realtà è ancora peggio la situazione non sempre si può fare questa cosa non sempre esiste un modo di calcolare questo valore cioè a meno ovviamente di avere la precisione arbitraria qua e fare il conto dico in generale se vogliamo fare i conti con strain dal modulo m quindi in qualche modo usando una precisione che proporziona la m quindi usando tipo 64 bit non sempre possiamo fare questa cosa la condizione e qua entriamo in matematica che io enuncio ma non non dimostro e non ovviamente non ci penso neanche però enuncio quantomeno è molto utile da sapere però non ci attenziamo troppo è che questa operazione si può fare solamente se b ed m sono coprimi questa operazione si può fare solamente se il divisore b e il modulo m sono coprimi coprimi cosa vuol dire? che non condividono alcun fattore cioè se voi fattorizzate b ed m ok fattorizzare vuol dire scomporlo in fattori primi cioè in numeri primi che moltiplicate da quel numero non hanno fattori in comune questa è la condizione per cui quella cosa si può fare e anche in questa condizione non è facile farlo in realtà diventa abbastanza facile farlo quando quando m è primo che è il caso in cui ci focussiamo noi nel caso in cui m sia primo ok questa cosa diventa facile da fare tra l'altro ovviamente m primo se è un numero primo implica che b e m sono coprimi perché perché se m è un numero primo non importa che che numero sia b ovviamente non potrà avere fattori in comune e b non può essere un multiplo di m perché sennò sarebbe zero perché siamo in modulo m e non a caso un miliardo e sette se controllate su che ne so Wolfram Alpha o qualche altro sito anche nel terminale su Linux su OpenSSL potete controllare comunque che 19 più 7 è un numero primo non a caso quindi ha quel numero di bit per il fatto che quando lo moltiplichiamo non sforiamo 64 bit ed è primo per questo motivo perché possiamo farci le divisioni in modulo un miliardo e sette come possiamo fare le divisioni beh in questo modo allora un attimo che riscrivo questo pezzo ok allora noi vogliamo calcolare a diviso b modulo m allora intanto sarete d'accordo con me che questa cosa è equivalente a dire a per b alla meno 1 modulo m ok queste due scrittore sono equivalenti perché ovviamente se voglio portare sopra la b devo elevarla alla meno 1 che è come portarla giù queste cose sono equivalenti ok c'è un teorema che ci dice che se m' allora b alla meno 1 è uguale a b alla m meno 2 modulo m ovvero tra l'altro in realtà di solito quando scriviamo queste cose così si usa tre uguali perché di solito di solito si usa tre uguali però è la stessa cosa è solo una notazione matematica è sempre uguale si legge congro quando si parla di algebra modulare congro però è come l'uguale allora dicevamo se m' vale che l'inverso di un numero è uguale a quel numero elevato alla m meno 2 dove m è quel primo che è il modulo ok ma quindi cosa vuol dire che quindi a diviso b è uguale a a per b alla m meno 2 modulo m sempre ok ma b alla m meno 2 sappiamo calcolarlo perché b alla qualcosa b alla c è come b per b per b papapam quante volte c volte ok quindi b alla m meno 2 sappiamo calcolare e quindi se m è un numero primo se il modulo è un numero primo e un miliardo e 7 è un numero primo allora possiamo anche fare la divisione ok e questa è l'equazione fondamentale che b alla meno 1 è congola b alla m meno 2 in modulo m se m è un primo provare per credere provare per credere proviamo a fare un conto che ne so 12 diviso 4 quanto fa 12 diviso 4 beh fa 3 direi che è abbastanza scontato ma allora se noi facciamo se noi noi appunto mettiamo che stiamo facendo questa operazione ma vogliamo farla in modulo 2 ok quindi ci aspetteremmo che se noi facciamo 12 facciamo un modulo un pochino più alto va che meno così facciamolo in modulo 5 dai ok se noi facciamo 12 diviso 4 in modulo 5 ci aspetteremmo che fa comunque 3 ok perché 3 è la risposta 3 in modulo 5 fa 3 quindi ci aspettiamo che fa 3 allora come facciamo a fare questa divisione in modulo 5 beh prima cosa a e b li mettiamo in modo che siano compresi tra 0 e 4 facendone il modulo 5 dei singoli numeri quindi cosa facciamo 12 diventa 2 perché 12 modulo 5 fa 2 e 4 rimane 4 poi riscriviamo questa cosa come 2 per 4 alla meno 1 ok sempre modulo 5 a questo punto sappiamo che 4 alla meno 1 è uguale a 4 alla terza perché è uguale a 4 alla 5 meno 2 quindi questa cosa è uguale a 2 per 4 alla terza modulo 5 4 alla terza quanto vale 16 no no non è vero 64 4 per 4 16 per 4 64 si ok vale 64 quindi questo qua vale 64 64 modulo 5 fa 4 quindi abbiamo 2 per 4 modulo 5 2 per 4 fa 8 modulo 5 fa 3 abbiamo provare per credere ora ho fatto un esempio così ma potete provarci con qualunque otteniamo il risultato della vera divisione se ovviamente questo 3 non fosse stato un 3 ma fosse stato tipo un 8 facciamo tipo un 9 e facciamo l'operazione in modulo 5 ovviamente non ci usciva 9 ci usciva 4 perché ci usciva il modulo 5 della divisione ovviamente perché è quello che ci stiamo aspettando bene quindi nel caso ci serve fare una divisione in modulo un primo basta che il dividendo lo esponenziamo al modulo meno 2 e poi lo moltiplichiamo al al non mi ricordo quale sono il dividendo il divisore quello sopra e quello sotto quello sotto lo prendiamo lo esponenziamo alla m meno 2 e lo moltiplichiamo per quello sopra ok ok fino a qua ci sono domande lo prendo con un no lo prendo con un no ok però normalmente abbiamo detto che il nostro modulo chiamiamolo p è 10 alla nonna più 7 di solito nei problemi che è enorme è un miliardo e 7 quindi se dobbiamo trovare l'inverso modulare per esempio di 5 ok in modulo in modulo un miliardo e 7 dovremmo fare 5 alla un miliardo 3 6 ok alla un miliardo e 5 ora non devo dirvi io che fare 5 per 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 5 un miliardo quindi p meno 2 volte un miliardo e 5 volte un computer non ce la fa perché abbiamo detto che un prodotto ovviamente poi ogni volta dobbiamo fare il modulo p per non sforare l'intero e questo possiamo farlo perché è la cosa delle moltiplicazioni però fare un prodotto ci costa tempo costante qua dobbiamo farne p di moltiplicazioni e quindi ci costa uno grande di p però cavolo p è un miliardo abbinato che facciamo 10 all'8 per azione al secondo circa e ci mettiamo 10 secondi a fare solo questo se no dobbiamo fare tipo 100 è la morte in realtà esiste un algoritmo più efficiente per calcolare un elevamento a potenza in modulo qualcosa questo algoritmo si chiama fast modular exponentiation che è quello che è exponentiation credo si scrive così no non lo sono sicurissimo fast modular exponentiation ok esiste un algoritmo che ci mette molto meno come vi avevo spoilerato ci mette invece che o grande dell'esponente perché dovremmo fare quel numero di moltiplicazioni ci mette o grande di logaritmo dell'esponente come funziona è un algoritmo ricorsivo che fantasia quindi dobbiamo calcolare facciamo che dobbiamo calcolare a alla b modulo c questo è quello che vogliamo calcolare ok allora l'algoritmo ci dice che un qualunque a alla 0 modulo c farà sempre 1 ovviamente un numero alla 0 fa 1 modulo non importa cosa basta che sia positivo fa basta che sia maggiore di 1 fa 1 ok questo è il caso base dopo di che ci dice beh se hai a alla 2n più 1 modulo c questo è solo un modo standard per dire che è dispari se io ho un numero dispari ok se ho a elevato allo numero dispari allora questa cosa è come dire a per a alla 2n modulo c e anche qua mi pare che non ci debba essere troppa fantasia ok nel senso se abbiamo a allo numero dispari è come dire a per l'esponente meno 1 nulla di troppo fantasioso qua la parte interessante è l'ultimo caso ovvero a alla 2n modulo c perché a alla 2n modulo c possiamo vederlo in un modo interessante ovvero possiamo vederlo come a alla n al quadrato al quadrato modulo c e anche questo abbastanza banale nel senso ovviamente se fate potenze di potenze cioè se fate potenze tonde potenze tonde potenze tonde l'esponente sarà il prodotto ok quindi questa cosa è equivalente a questa ma c'è un particolare che se noi calcoliamo se noi facciamo finta di aver calcolato a alla n questo è un numero ma dobbiamo elevarlo al quadrato adesso e elevarlo al quadrato vuol dire moltiplicare quel numero per se stesso qui cosa vuol dire che invece di dover fare un'altra chiamata ricorsiva ok possiamo prendere quel numero e moltiplicarlo per se stesso questa è un'operazione costante ma allora come funziona questa cosa quante operazioni dobbiamo fare per ottenere il nostro risultato mettiamo di voler calcolare un numero bello ciccione tipo 2 alla facciamo 50 in modulo 5 ok e vediamo come funziona questa cosa 2 alla 50 è un numero giganorme è proprio un numero giganorme se lo calcoliamo però se lo calcoliamo modulo 5 in realtà possiamo usare questo algoritmo e vedremo che lo possiamo fare veramente in pochi passi allora 2 alla 50 non è 0 quindi non è il caso base non è dispari è pari allora cosa sappiamo questo qua sarà 2 alla 25 al quadrato modulo 5 bene bene dobbiamo calcolare 2 alla 25 2 alla 25 beh è dispari quindi sarà 2 per 2 alla 24 modulo 5 ok ora dobbiamo calcolare 2 alla 24 2 alla 24 cosa sarà? beh sarà 2 alla 12 al quadrato modulo 5 2 alla 12 vado a lato cosa sarà? sarà 2 alla 6 al quadrato modulo 5 2 alla 6 sarà 2 alla 3 al quadrato modulo 5 2 alla terza sarà 2 per 2 alla seconda modulo 5 ok e 2 alla seconda beh sarà 2 al quadrato modulo 5 modulo 5 ok e per finire abbiamo 2 ok modulo 5 che è il nostro non è veramente il caso base perché se vogliamo arrivare proprio al caso base preciso dovremmo anche scrivere 2 per 2 alla 0 perché ora sarebbe 2 alla 1 ok 2 per 2 alla 0 modulo 5 ora siamo al caso base allora 2 alla 0 fa 1 ovviamente quindi questo qua se ne può andare bene ora cosa dobbiamo fare? dobbiamo risalire però notate che in realtà faremo al più un prodotto ogni volta perché nei casi dispari dobbiamo fare questo prodotto ok nei casi dispari dobbiamo fare questo prodotto nei casi pari è sempre un altro prodotto perché un allevamento al quadrato è un prodotto deve fare quel numero per se stesso quindi in realtà sappiamo già che faremo un prodotto quindi un'operazione costante per ognuno di questi se avessimo fatto 2 alla 50 nel modo standard avremmo dovuto fare 2 per 2 per 2 per 2 per 2 per 2 50 volte e quindi avremmo fatto 50 moltiplicazioni in questo caso vediamo già che ne faremo quante 1 2 3 4 5 6 7 8 con 8 moltiplicazioni abbiamo trovato il valore di 2 alla 50 modulo 5 facciamole 2 vale 2 2 al quadrato vale 4 modulo 5 fa 4 quindi questo è 4 poi questo sappiamo che vale 4 2 per 4 fa 8 8 modulo 5 fa 3 quindi questo vale 3 3 al quadrato fa 6 no non è vero niente 2 al quadrato non fa 6 3 al quadrato fa 9 9 modulo 5 fa 4 quindi questo vale 4 4 al quadrato fa 16 modulo 5 fa 1 quindi questo vale 1 1 al quadrato fa 1 modulo 5 fa ancora 1 quindi questo vale 1 2 per 1 fa 2 quindi questo vale 2 2 al quadrato fa 4 e quindi sappiamo che questo vale 4 2 alla 50 modulo 5 fa 4 e l'abbiamo fatto con meno step è chiaro l'algoritmo? ok ultimissima cosa complessità notiamo che ogni volta o stiamo diminuendo di 1 l'esponente del prossimo passo o lo stiamo dimezzando e almeno ogni due passi lo dimezziamo ma allora cosa vuol dire che il numero massimo di passi che dovremo fare per arrivare a 0 che è il caso base sarà 2 volte il logaritmo in base 2 dell'esponente che quindi è 1 grande di logaritmo dell'esponente che è come che è la complessità che ci eravamo detti l'altra volta ok ci sono domande? lo prendo come un no? no ok ok ok